Il Corporate Observatory Vehicle, il centro studi dell'azienda francese Arval, attivo in Italia dal 2005, ha presentato di recente i risultati del barometro 2014, la ricerca internazionale delle flotte aziendali che ogni anno permette di valutare i trend italiani rispetto alla media europea. Conclusa sì alla fine del mese di marzo, quest'anno l'indagine ha messo in evidenza tre particolari argomenti sviluppatisi sul territorio nazionale, la telematica di bordo, l'outsourcing e soprattutto l'attenzione al tema della sicurezza. Vi è una consapevolezza sempre più alta da parte delle aziende di quanto questa tematica, che non ha bisogno di essere commentata sul piano sociale, quindi su quello degli impatti legati alle persone, rispetto all'incidentalità stradale, quanto questa tematica sia anche importante sul piano economico e quindi quanta mancanza di efficienza produca la mancanza di sicurezza. Siamo riusciti con questa ricerca a dare una dimensione precisa a questo fenomeno, identificando come un costo occulto della non sicurezza pari a circa un tredicesimo canone di noleggio e questo dà un ulteriore stimolo a nostro avviso affinché le aziende vedano la sicurezza come un investimento e non semplicemente come un costo.